Fuori Tg, buongiorno e benvenuti. Dunque ci sono sempre più imprenditori italiani che producono in Cina. Direte voi la solita storia della delocalizzazione, il costo del lavoro più basso, vanno via dall'Italia e vanno lì. In realtà non è esattamente quello che avviene. Ci sono storie che noi magari da qui non riusciamo a immaginare. La prima di queste storie la sentiamo nella nostra copertina realizzata dal corrispondente da Pechino, Claudio Pagliara. Realizzare impianti fotovoltaici in Cina, primo produttore mondiale di pannelli solari, sembrerebbe impossibile. Un po' come vendere ghiaccioli al Polo Nord. E invece Giuseppe Auguadro, ingegnere comasco che nel 2006 a 30 anni ha scelto Shanghai per costruirsi il futuro, è riuscito nell'impresa. La Ilum China, l'azienda di cui è cofondatore, ha da poco completato il più grande impianto fotovoltaico mai realizzato in Cina sul tetto di un capagnolo industriale. 14.000 metri quadri, un risparmio sulla bolletta elettrica del 20-30%. Abbiamo il vantaggio di avere già costruito molte di questi impianti negli ultimi 10-15 anni, mentre le aziende cinesi che sono molto più grandi hanno un'esperienza che a livello di installazione sui tetti è molto più breve. Davide Controgolia, una microimpresa, sette dipendenti, che sfida concorrenti mille volte più grandi. Il segreto del successo? Bisogna essere coraggiosi, bisogna crederci fino in fondo e non bisogna avere paura di essere in Cina con dei competitor che sono a volte molto più grandi di noi. Shanghai è una metropoli globale dove ci si sente proiettati nel futuro. Giuseppe Auguadro ci vive da 12 anni, non senza un pizzico di nostalgia. L'Italia è sempre nel qua, non va mai via. E c'è una gara bella perché è sempre di stare sull'aereo supersonico. Ogni tanto è bello anche fermarsi e tornare a casa e guardare il lago. Italia in Cina è il titolo della nostra puntata di oggi. Che cosa è cambiato? Perché tante aziende vanno a produrre in Cina? Che cosa c'è di nuovo rispetto al passato? Abbiamo in collegamento con noi da Shanghai dove è in corso, diciamo, si è appena aperta o sta per aprirsi, ora ce lo dirà bene lui, la fiera del mobile, il salone del mobile. Claudio Pagliara, lo vedete, il nostro corrispondente. Claudio, però prima di parlare del salone del mobile volevo tornare sul tema che ci hai descritto in questo servizio. L'industria verde in Cina. Si dice che loro sono leader perché? Allora, innanzitutto sono leader perché nella produzione dei pannelli solari le grandi gruppi cinesi sono sicuramente i primi produttori mondiali. Poi c'è da dire che questo paese che come sappiamo è cresciuto in maniera enorme negli ultimi 30 anni, in maniera ininterrotta, proprio per la crescita così galoppante, ovviamente ha incontrato i ben noti problemi di inquinamento. Negli ultimi 4-5 anni il governo cinese ha dichiarato guerra all'inquinamento, guerra a queste città che sono una certa volta diventate delle camere a gas. Quindi sta investendo risorse crescenti proprio nelle energie rinnovabili. È il paese, diciamo, la Cina che ha investito di più negli ultimi anni proprio in questo settore. Parlavamo del salone del mobile che ha a che fare con quello che stiamo parlando di oggi, cioè l'Italia in Cina. Proprio qui alle mie spalle si è appena chiusa la prima giornata del salone del mobile Milano a Shanghai. Perché a Shanghai? Perché questo è il mercato sicuramente più interessante per chi, come il salone del mobile, offre prodotti di qualità, di design. La bellezza, la bellezza che cerca la classe media cinese, una classe emergente. Parliamo di decine di milioni di persone all'anno che entrano in questa fascia di consumo che può permettersi consumo di qualità. A 123 espositori oggi il meglio del nostro design, una grande folla di esperti, un grande successo per il Made in Italy che tra l'altro ha realizzato lo scorso anno un più 36% le vendite di mobili qui nel paese. A te la linea. Sì, allora poi torniamo sugli altri temi. Intanto vi presento il nostro secondo ospite che è in collegamento con noi dalla sede RAI di Genova. Ed è Luciano Maria Gandini, buongiorno, benvenuto a fuori TG, del gruppo Ansaldo Energia. Rappresenta qui anche Confindustria. Reduce pure lui da Shanghai. Sì, eravamo presenti all'Expo, alla China International Import Expo che si è tenuta proprio a Shanghai dal 5 al 10 novembre che è stata una dimostrazione di forza del cambiamento di pelle che la Cina sta portando avanti, quindi da esportatore a importatore. Quello che diceva il corrispondente da Shanghai vi spiega anche per l'interesse della Cina in Ansaldo Energia perché se da un lato per combattere l'inquinamento si è dovuto chiudere o cominciare a chiudere gli impianti a carbono e gli impianti a olio combustibile perché molto inquinanti, dall'altro lato oltre alla spinta sulle rinnovabili che il nostro concittadino ha cavalcato alla grande c'è anche la necessità di convertire o di costruire impianti a gas che sono molto meno inquinanti degli impianti a carbone in via di smantellamento e quindi la tecnologia delle turbine a gas che in Cina non c'è perché i principali competitor sono americani, tedeschi, giapponesi e italiani giustifica l'interesse e l'ingresso di un colosso come Shanghai Electric in Ansaldo Energia con una quota di minoranza quindi l'interesse è talmente forte che hanno anche accettato di entrare senza il controllo. Senta, mi dice, poi vediamo un servizio che ci mostra una rete di imprenditori italiani in Cina mi dice però brevemente quanto è cresciuto il vostro fatturato nella produzione cinese negli ultimi anni? Guardi, noi nel 2014 non vendevamo assolutamente niente in Cina nel 2016 abbiamo raggiunto una quota di mercato nel settore delle turbine a gas che poi è il nostro prodotto principale pari al 33% in questi cinque anni abbiamo venduto già una ventina di macchine quindi è stato un ingresso importante e l'avvio di una partnership assolutamente fondamentale per Ansaldo Energia e per Shanghai Electric. Chiaro, allora come si può fare rete fra imprenditori italiani in Cina? ce lo mostra nel prossimo servizio Claudio Pagliara Si fa presto a dire tappo ma per produrne un miliardo e duecento milioni all'anno ed essere competitivi in Cina c'è bisogno di far ricorso alle tecnologie più avanzate. È italiano il tappo delle bottiglie di birra di qualità cinesi lo produce la Pelliconi, leader mondiale del settore in questo stabilimento a Suzhou, mezz'ora di treno veloce da Shanghai. 70 dipendenti altamente qualificati il cui compito è quello di controllare il buon funzionamento delle macchine ed effettuare i controlli di qualità. Siamo cresciuti tanto negli ultimi due anni, le prospettive sono di continuare a crescere e secondo me in generale tutte le aziende che fanno un prodotto di qualità avranno un futuro importante in Cina perché il mercato sta proprio andando in questa direzione. Lorenzo Bali è in Cina dal 2003, ha visto il gigante asiatico cambiare a velocità sconosciute in Europa. Quando la Pelliconi lo ha contattato per l'apertura di uno stabilimento destinato al mercato cinese, non ha avuto dubbi, il luogo giusto era Suzhou. Qui infatti c'è la comunità business italiana fuori dai confini nazionali più numerosa del mondo, 100 aziende. E in un mercato difficile come quello cinese, l'unione fa davvero la forza. Questo gruppo di aziende, qua alla fine è un gruppo di persone, si incontra, si scambia informazioni, si aiuta, quindi veramente facendo gruppo e facendo squadra, cosa che in altre parti del mondo non succede, forse un po' perché siamo lontani da casa, forse un po' perché siamo lontani dall'Italia, quindi questo spirito di aggregazione è più forte. Fino a dieci anni fa si investiva in Cina per produrre a basso costo prodotti destinati alle esportazioni. Oggi la situazione è radicalmente cambiata, i costi di produzione si avvicinano sempre di più a quelli occidentali. Si viene in Cina per produrre per il mercato cinese e si è successo solo con prodotti innovativi. La Pelliconi ne è un esempio perfetto, a Suzhou produce il tappo a strappo che per i cinesi è diventato un sinonimo di birra di qualità e per garantire la conformità del prodotto allo standard richiesto dal cliente utilizza le tecnologie più avanzate. Ed è un mercato che non ha più niente a che vedere con un mercato povero dove vendere prodotti di bassa qualità, assolutamente un prodotto, è un mercato di riferimento per i prodotti top di gamma, quindi e non soltanto per tutti quei prodotti che appartengono per esempio al mercato del lusso come l'abbigliamento all fashion, ma assolutamente anche per l'alta tecnologia, quindi un mercato dove la meccanica di qualità, la robotica, la chimica farmaceutica, le nanotecnologie, le biotecnologie, tutti questi settori stanno subendo uno sviluppo incredibile perché è un mercato che li richiede. A proposito di prodotti alto di gamma, a questo punto però parliamo della notizia delle ultime ore lo scivolone dello stilista Stefano Gabbana sui social che ha fatto sì che tutti i siti di commerce cinesi abbiano oscurato tutte le pubblicità e tutto quello che si riferisce al marchio Dolce Gabbana che doveva, ve lo riassumo molto brevemente, sponsorizzare una sfilata proprio a Shanghai che avrete ormai capito che è uno dei luoghi più vitali economicamente del mondo in questo momento. Se non che la campagna pubblicitaria giudicata sessista, quella che promuoveva questa sfilata è stata criticata, ci sono stati degli scambi di insulti in via privata, diciamo così, tra Gabbana e degli haters, così si chiamano quelli che reagiscono comunque così, lui li ha definiti, su internet e da qui si è arrivati però al bando. Che cosa è successo Gandini nel rapporto, nel rapporto voglio dire con marchi di lusso e mercato cinese, mercati esteri in generale? Ma guardi, non ci si improvvisa a fare internazionalizzazione, ci vuole studio, passione, cultura, quindi le faccio un esempio, noi nel 2014 abbiamo iniziato una serie di corsi di formazione al personale di Ansalda Energia proprio di cultura, quindi come rapportarsi con i cinesi, come fare le riunioni con i cinesi, quindi il fattore culturale, lo scambio culturale deve avvenire nel massimo rispetto. Diciamo che se una parte di questi corsi li avesse fatti anche il noto stilista probabilmente non sarebbe inciampato, perché il fattore culturale è fondamentale, occorre entrare nel paese con rispetto e con conoscenza della cultura. Ecco, sentiamo su questo Pagliara, in collegamento da Shanghai. Sì, certamente, il fattore culturale proprio come dicevate è fondamentale, per questo proprio bisogna essere in Cina, per questo è importante, diciamo una volta c'era uno sguardo un po' di sospetto sulle aziende italiane che investivano in Cina, perché si pensava che stessero delocalizzando la produzione per cercare manodopera a basso costo. Questo non è mai stato vero, tantomeno adesso in cui, come abbiamo visto, il costo della manodopera in Cina si sta avvicinando a quello europeo-italiano. Qui si deve venire per accorciare la distanza culturale che c'è con questo paese, capirlo a fondo per poter approfittare di questo mercato enorme che naturalmente, essendo noi tutti ospiti, dobbiamo anche imparare a rispettare. Non ci sono sindacati che diciamo difendono i diritti dei lavoratori? Pagliara I diritti dei lavoratori in Cina naturalmente c'è una concezione molto diversa di quella italiana, proprio per la configurazione del paese. Il sindacato è un sindacato sostanzialmente di ufficiale, emanazione del Partito Comunista, quindi emanazione di ciò che è al potere. Devo dire che negli ultimi anni da inchieste che abbiamo fatto nelle realtà industriali, anche su questa strada però ci sono grandi progressi, ci sono delle ONG, delle organizzazioni non governative che fungono da consulenza legale e portano avanti vertenze quando i diritti dei lavoratori sono violati. Ci sono stati anche molti scioperi, ci sono in Cina, vengono però tollerati nella misura in cui non diventino politici, perché questa è la linea rossa, è caso di dire che in questo paese non si può violare perché il monopolio del potere politico, come sappiamo, è nelle mani del Partito Comunista. Eh sì, allora torniamo al fattore culturale, gli outlet più famosi in Cina sono di produzione italiana possiamo dire, si ispirano alle forme delle città toscane del Cinquecento, state a guardare questo servizio Claudio Pagliara. Scorci di città italiane dove meno ce li aspetteremo, le periferie di alcune megalopoli cinesi. Questo outlet si trova a Shanghai, capitale finanziaria della Cina, non lontano dall'aeroporto di Putong, uno dei più grandi del mondo. E in centri commerciali come questo sono già sei in Cina e un settimo in fase di realizzazione che ogni giorno decine di migliaia di cinesi fanno shopping di qualità. Il marchio Florenzia Village richiama la città dove ha sete la società che ha promosso questo colossale investimento, il gruppo fiorentino RDM Fingen. Attirano moltissimo il cinese perché hanno questa sensazione di andare in Italia, di fare un viaggio in Italia. Ci può sembrare un po' strano hanno l'italiano, ma per loro è un po' come immergersi in un'atmosfera italiana. E questo è un forte motivo di riconoscimento, di distinzione da altri prodotti che ci sono sul mercato e c'è un passaparola di persone che vengono a noi e mandano amici per vedere un pezzetto di Italia. La scelta di investire in Cina si è rivelata a lungimirante. Il mercato europeo era saturo e il dragone offriva le prospettive più promettenti. Sette anni fa il primo Florenzia Village tra Pechino e Tianjin. Un successo al di là delle aspettative. In rapida successione, costruiti outlet simili a Shanghai e Canton, poi in due delle nuove metropoli cinesi, l'ultimo Hong Kong e tra due anni, il settimo, vedrà la luce a Chongqing, la porta verso l'ovest della Cina che cresce più del resto del paese. I numeri parlano da soli. 13 milioni e mezzo di visitatori lo scorso anno, 16 milioni quest'anno, più 26%. Le dimensioni cinesi sono delle dimensioni molto superiori, proprio per un dato numerico di base. Quindi, e anche si riflette questo nel tipo di villaggio che noi facciamo in Cina. Mediamente i nostri villaggi sono di, come al minimo, il doppio di quelli che ci sono. In Italia e in Europa, direi, ma anche in America. Perché oltre a tutti i marchi internazionali, ci sono anche moltissimi marchi di qualità e qualità crescente cinesi che vanno a completare la gamma dei prodotti. Oggi è l'11 novembre, in Cina è il giorno del grande festival dello shopping online. Eppure il Florenzia Village di Shanghai registra un flusso superiore alla media. In un centro commerciale i vestiti si possono davvero vedere, indossare, scegliere con cura. Online no. Il settore del commercio evolve verso una sempre più stretta integrazione tra boutique fisica e virtuale. La Cina, che sul digitale corre più veloce di tutti, lo dimostra. A decretare il successo di questo centro commerciale è stato il passaparola digitale. Le foto discorci d'Italia, condivise con la cerchia degli amici di WeChat. L'app che è un po' Whatsapp, un po' Facebook e con cui si può anche acquistare online e offline con un semplice click. Abbiamo poco tempo, faccio entrambi la stessa domanda. Prima Gandini e poi Pagliara. Quale consiglio per un imprenditore che voglia trasferirsi in Cina con la sua attività produttiva? Evitare l'improvvisazione, avvalersi dei colleghi italiani o dei altri imprenditori italiani che sono già nel Paese, non essere reticente a studiare, a chiedere consiglio. Non ci si improvvisa, non si devono fare gli scivoloni di cui abbiamo parlato poc'anzi. Occorre entrare nel Paese con competenza, affidandosi anche alle strutture di Confindustria o di Union Camere che nel Paese sono presenti e hanno una capilarità oramai davvero importante. Il sistema Italia si sa muovere bene e avete dimostrato in questi pochi servizi che a volte lo storytelling negativo che ci autofacciamo noi italiani non ha assolutamente alcun valore all'estero. I cinesi ci apprezzano, ci vogliono, desiderano i nostri marchi e la nostra cultura che si esprime nel food, nel fashion e nell'alta tecnologia. Sì, sono d'accordissimo con quanto appena detto. Aggiungo che effettivamente non ci rendiamo conto all'est in Italia di quanto l'Italia sia un valore aggiunto di per sé. Cioè la passione, l'amore e anche l'ammirazione che i cinesi, ma io ho visitato anche altre parti del pianeta come corrispondente RAI, posso anche aggiungere altre parti, hanno verso l'Italia. Ce lo siamo meritati nella nostra storia, nei nostri cromosomi. È un grande patrimonio che possiamo sfruttare meglio di quanto facciamo. C'è da dire che la Cina è un mercato difficile, è necessario venirci dopo aver studiato. A voi la linea. Grazie, abbiamo finito il tempo, grazie a quelli che ci hanno seguito. Continuate a farlo su Instagram, Facebook e Twitter. Ci trovate digitando fuori TG, TG3. Domani torniamo qua in Italia a parlare di imprese che cercano di farcela contro la burocrazia. A domani, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.